carissimi fratelli sorelle pace e bene buongiorno per tutto il giorno meditiamo stamattina il vangelo di matteo capitolo 9 versetti 35 a 38 più il capitolo 10 versetto 1 punto 6 a 8 in quel tempo gesù percorreva tutte le città e i villaggi insegnando nelle loro sinagoghe annunciando il vangelo del regno e guarendo ogni malattia e ogni infermità vedendo le folle ne senti compassione perché erano stanche e sfinite come pecore che non hanno pastore allora disse ai suoi discepoli la messe è abbondante ma pochi sono gli operai pregate dunque il signore della messe perché mandi operai nella sua messe chiamati a sé i suoi dodici discepoli diede loro potere sugli spiriti impuri per scacciarli e guarire ogni malattia e ogni infermità egli inviò ordinando loro rivolgetevi alle pecore perdute della casa di israele strada facendo predicate dicendo che il regno dei cieli è vicino guarite gli infermi risuscitate i morti purificati i lebrosi scacciate i demoni gratuitamente avete ricevuto gratuitamente date parola del signore ecco siamo nel tempo di avvento e le letture ci portano proprio a distinguere diciamo a notare la presenza del del messia cioè qui parliamo proprio della sua venuta allora ieri gesù ha guarito due ciechi come simbolo o segno della sua presenza o della presenza del messia in mezzo al popolo e oggi gesù nota qualcosa guardando la folla essa era come le pecore senza il pastore ha avuto compassione allora chi può avere compassione se non è dio perché essere compassionevole e con per dire nelle parole più semplici entrare nella pelle dell'altro capire la sofferenza la difficoltà dell'altro gesù ha avuto questa sensazione entra nella profondità dell'uomo vede che quest'uomo è stanco e sfinito come già chi si parla della folla come le pecore senza al pastore i pastori ci sono ma questi pastori non cugivano non aiutavano non proteggeva non proteggevano non proteggevano il popolo allora dunque era erano lì ma senza esserci e allora gesù dunque ha detto ma dove come per dire non ma dove sono i pastori è interessante leggere anche il profeta ezechiele sarebbe capitato capitolo 34 fino a 37 quando dio stesso si lamenta dice ecco allora io vi ho messo qui gesù c'è dio padre rivolge la parola a questi a questi pastori vi ho messo lì per cudire per prendere cura proprio del popolo ma purtroppo ne approfittate allora io stesso scenderò per cudire per proteggere curare diciamo il il popolo dunque dio stesso scenderà a prendere cura del suo popolo di questi pastori cioè non esistono quasi per nulla come come nella nella nel capitolo 10 di giovanni no parliamo del del buon pastore non si dice il pastore ma il buon pastore questo addettivo significa che ecco c'è il cattivo dunque qui stiamo più o meno nella stessa situazione lo stesso contesto allora adesso dunque che cosa fa scegli gli apostoli per mandarli a cudire il popolo allora gli apostoli diventano i nuovi pastori all'immagine del buon pastore all'immagine del vero pastore che cristo è il messia allora la missione qual è degli apostoli dire che ecco il regno è presente cioè gesù cristo è in mezzo a voi e perciò per dare un segnale forte diciamo oppure per dare degli indizi della sua presenza perché quando si parla del regno di dio è proprio la presenza di cristo stesso dunque questo regno è cristo stesso però per dare proprio gli indizi allora ci sono delle guarigioni come abbiamo detto ieri guarire queste malattie è proprio dare un segno della presenza del messia le malattie che isaia aveva annunciato dunque gesù da questo potere agli apostoli per guarire per dare come una testimonianza che ecco adesso il regno è in mezzo a voi e perciò ha detto quando predicate dite che il regno è il mezzo a voi ecco carissimi per dirci ecco noi è vero ci lamenteremo andremo in cerca della salvezza andremo a bussare a qualche volta alle porte sbagliate per cercare una salvezza gesù ha detto lui è il mezzo a noi cerchiamolo soltanto non con gli occhi fisici ma spirituale lo scopriremo lui sta accanto a noi da una parte dall'altra parte gesù vorrebbe oppure fa di noi questi nuovi pastori ognuno è pastore cominciando a casa sua da casa sua cuidiamo i figli nostri cuidiamo gli amici cuidiamo chi sta intorno a noi come nel dare una testimonianza solo nel dare testimonianza che noi confermeremo la presenza di cristo in mezzo così quelli che ci vedono vivere diranno ma com'è ci comporta così mi piace come tu fai perché giustamente noi abbiamo cristo dentro di noi allora carissimi il regno è presente ma noi siamo i protagonisti di questo regno noi siamo i pastori allora gesù ci ha mandato con il potere che abbiamo ricevuto al battesimo per curare le persone che sono accanto a noi come dando un consiglio buono visitando aiutando essere presente questo è un modo di dare sollievo soddisfazione anche diciamo un sostegno a delle persone è così è vero uno può fare i miracoli straordinari ma soprattutto questa avvicinata aiuta a capire che cristo è in mezzo a noi allora che dio vi benedica vi auguro una buona e santa giornata grazie a tutti